Il consumo del suolo e la bellezza ambientale sono temi che toccano nel cuore la vita delle città e dell'Europa, perché la salvaguardia del territorio è l'unica alternativa al degrado ambientale. Vi darò un dato, il suolo consumato in Italia in termini assoluti è di circa 23.000 km quali lati. L'Europa e le Nazioni Unite richiamano ogni singolo Stato a riconoscere il valore di capitale e naturale del suolo per raggiungere importanti obiettivi come l'azzeramento del consumo netto del suolo entro il 2050 e la conversione del territorio degradato. In Italia è necessaria una normativa unitaria in materia, fondata sulla tutela dell'ambiente, sulla dimensione antropologica della bellezza, dell'inclusione e della condivisione degli spazi. Dobbiamo tenere bene a mente le parole profetiche di Paolo VI. Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza come la verità è ciò che infonde gioia al cuore di noi.